Se c'è una cosa che ci manca tantissimo è proprio poter fruire i luoghi, perché con tutti questi colori di regione siamo sempre attentissimi a quando si può uscire e dove si può uscire. Io ho visto i ragazzi affollare ogni angolo di cemento, davvero, sempre con le mascherine, sempre fare capannello con un bagagliaio aperto e la pizza dentro pur di stare insieme. Lo so, è faticosissimo, lo è davvero per tutti. L'importanza di eventi come questi è anche ricordarsi che torneremo a fare tutto questo in presenza, ma che è possibile anche un'altra via, tra l'altro con i mezzi che conoscevamo bene e che finalmente forse sono tornati a essere centrali per la ragione per cui sono nati, cioè aggregare e unire le persone. E a tal proposito, grazie anche della partecipazione da remoto, so che non è facile, so che siete sfiniti da mesi di Zoom e di compleanni e aperitivi a distanza, ma ce la faremo. Eventi come questi servono anche a restare vicini, visto che siamo così distanziati. Ci sono persone che nascono sapendo già quello che vogliono fare, persone come me che ci si trovano assolutamente salendo su treni in corsa. Per farlo bisogna passare anche da un sacco di inciampi e un sacco di errori. Io ho perso mesi interi a studiare cose che non mi appartenevano perché probabilmente erano i sogni di qualcun altro. Non c'è niente di sbagliato, si può fallire, anzi si deve fallire, come diceva il mio professore di lettere, non c'è niente che valga la pena, che non meriti fatica. E non perché bisogna esaltare il sacrificio, ma perché l'impegno, sembra una banalità, ma è davvero poi la cosa che ti fa capire quanto tieni a un settore, a una forma d'arte, alla scrittura, alla musica. Provate tutto, anche quello che sembra non piacervi perché chissà potrebbe anche essere quella la vostra strada. Provate e avere anche coscienza dei propri limiti. Se una cosa da qualche parte non vi torna, non è la vostra, ci sarà assolutamente il tempo. Buttate sempre un occhio ovviamente a come si muove il mondo intorno, se ci sono dei settori che ricercano particolari risorse, ma non per questo dimenticatevi dei vostri sogni. Mai, 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 mai.